Diciamolo chiaramente, bisogna essere onesti ed andare oltre al semplice marketing, oltre al semplice hype. Confrontare Nothing Phone One con gli iPhone che costano praticamente il doppio o con gli smartphone top di gamma Android ha poco senso. Nothing Phone One è uno smartphone di fascia media e per quanto ben costruito, ben realizzato, ottimizzato e ben venduto dal reparto marketing in Nothing, rimane comunque uno smartphone di fascia media. L'ho utilizzato per un mese, ho voluto capirlo bene, ho voluto capire se tutte le novità, se tutto l'hype che si è creato attorno a questo prodotto avevano senso e vi racconto oggi in questa chiacchierata la mia recensione di Nothing Phone One dopo un mese di utilizzo. Iniziamo a parlare del Phone One, dall'esperienza di unboxing, ho già postato un video, vi invito ad andare a vederlo per vedere tutti i dettagli. Non mi è piaciuto il fatto che, come per le Nothing Air One, la confezione vada completamente distrutta, infatti va di fatto strappata la striscetta e rimane rotta a metà e quindi per me che sono un collezionista di tecnologia non è il massimo. All'interno poi troviamo solamente il telefono ed un cavo USB-C di buona qualità. Vanno acquistati a parte sia la cover da 25€ che il caricabatterie da 35€. Ovviamente potete utilizzare un caricabatterie o un alimentatore che avete già a casa ma in una faccia quella dei 400, 500, 600€ molto combattuta alcuni produttori tendono ad inserire tutti questi gadget ed accessori all'interno della confezione e quindi chi deve affrontare l'acquisto deve tenere conto anche di questi aspetti. Parlando del Phone One, nei primi giorni tornare all'Android Stock completamente il vuoto, completamente privo di ogni applicazione e funzione superflua mi ha un po' spiazzato ma devo dire che dopo qualche giorno di utilizzo mi ci sono riabituato e sono tornato ad amare l'esperienza Stock di Android che amavo tanti anni fa sui vecchi Nexus. Insomma, storia passata. Nei primi giorni soprattutto mi è piaciuto il fatto che Nothing abbia rilasciato immediatamente vari aggiornamenti che hanno migliorato complessivamente l'esperienza utente e devo dire che il device adesso dopo un mese dall'uscita sul mercato è davvero molto più maturo. Iniziamo l'analisi del telefono da quella che è la sua costruzione. Se devi copiare, fallo dai migliori. Ovviamente CarPlay e Nothing si sono ispirati ad iPhone che a livello di qualità costruttiva e di design molto probabilmente è fra i migliori se non il migliore produttore del momento. Il design del Phone One, c'è poco da dire, ricorda chiaramente gli iPhone 12 e gli iPhone 13. Ma andando al di là del fatto che sia copiato, No Nothing Phone One è un telefono costruito in maniera eccellente che è la cosa più importante. Anzitutto nella parte frontale troviamo uno schermo con cornici simmetriche e questo è una cosa che lo rende particolarmente unico nel panorama Android e lo trovo estremamente piacevole. Il fatto che le cornici siano uguali è un pregio molto importante e che ci permette di capire quale sia l'attenzione per il design che ha posto Nothing e tutto il team di Teenage Engineering nello sviluppo di questo smartphone. Passando poi a parlare del retro troviamo questa back cover trasparente che ci permette di vedere i componenti interni che sono realizzati in maniera davvero pazzesca e che sono ispirati allo stile, alla cartina della metropolitana di New York. A questo ci aggiungono i 900 LED che formano l'interfaccia Glyph di cui parliamo fra poco. Il retro è assolutamente piacevole, uno stile unico nel suo genere. Di fatto lo avevamo visto sugli Xiaomi di qualche anno fa ma erano semplicemente stampati. Devo dire che mi è piaciuto davvero tanto ed è un prodotto che attira sicuramente l'attenzione. Mi sono piaciute anche le cornici squadrate laterali. Non sono comodissime da impugnare ma l'ergonomia comunque nel complesso è abbastanza buona. Per quanto riguarda i materiali, Nothing from One è costruito in vetro e in alluminio. Alluminio 100% riciclato e le plastiche interne sono a sua volta il 50% riciclate o derivate da biopolimeri. Quindi Nothing ha un posto, l'attenzione anche sulla sostenibilità del prodotto ed è una cosa che apprezzo molto nel campo tecnologico e non solo. Passando a parlare un po' di dimensioni, Nothing from One di fatto è grande come un iPhone 13 Pro Max. Vedendo i render, vedendo le immagini stampa mi sarei aspettato qualcosa di un po' più piccolo, qualcosa di un po' più compatto. Nel complesso comunque per me che utilizzo iPhone 13 Pro Max per la gran parte dell'anno come smartphone principale è un buon formato che ci permette di avere un display sufficientemente grande e tutto sommato l'ergonomia è buona e l'impugnabilità è buona. Quindi a livello di costruzione e di design Nothing ha fatto un lavoro semplicemente impeccabile. Parliamo un po' dell'interfaccia Glyph che è l'elemento di caratterizzazione di questo prodotto. Sul retro troviamo questi 900 LED che ci permettono di illuminare la cover posteriore con questo Glyph che mi assomiglia un po' a una mela morsicata e di gestire quindi le notifiche, lo stato di ricarica della batteria e anche di illuminare le scene per scatti e video in maniera particolarmente unica sul mercato. Allora, l'interfaccia è fatta effettivamente molto bene, è personalizzabile, abbiamo la possibilità di unire dei pattern di vibrazione, luminosità e audio davvero unici che ci permettono quindi di avere un'ottima gestione delle notifiche. Il fatto che siano però sul retro del dispositivo mi ha un po' causato qualche noia. Di fatto da quando ho acquistato il primo Nokia 3310 ed ero alle medie io utilizzo lo smartphone appoggiato con lo schermo verso l'alto sulla scrivania, al computer, al lavoro, mentre sono a casa. In ogni occasione ho lo smartphone con lo schermo verso l'alto. In questo mese di utilizzo ho provato con tutta la buona volontà del mondo ad utilizzare lo smartphone a rovescio per godermi dei glifi posteriori però onestamente non sono riuscito ad abituarmi e comunque ogni volta che arrivavo una notifica mi trovavo a rigirare lo schermo. Quindi qui dipende un po' del vostro utilizzo, dalle vostre abitudini. Per me i glifi sono davvero ben realizzati, sono un'idea figa, sono ingegneristicamente fatti benissimo ma li trovo davvero poco utili e pratici nell'utilizzo quotidiano. Rimaniamo però sui punti positivi. Troviamo sulla parte frontale un signor display OLED da 6,55 pollici, Full HD+, compatibile con HDR10, 10 bit di colore, quindi non gli manca davvero niente. È un signor schermo, ha una luminosità massima di 700 nits che ci permette di avere una leggibilità assolutamente perfetta all'interno di casa e degli ambienti che ci mette magari qualche volta in difficoltà in queste giornate soleggiate d'estate ma rimane comunque una leggibilità sufficiente. Punto di forza dello schermo è il refresh a 120 Hz, non è LTPO però ha tre livelli di funzionamento 60, 90 e 120 che gli consentono di rendere l'esperienza di utilizzo davvero fluida, scorrevole, coinvolgente e assolutamente piacevole e godibile. Oltre a questo c'è da dire che i colori sono tarati in maniera davvero precisa e elegante. Li ho trovati davvero dei colori naturali, non c'è la spinta, la sotturazione estrema, non c'è l'effetto wow, sono dei colori belli e anche quando guardiamo le foto a schermo abbiamo dei colori belli ben bilanciati. Oltretutto ne parlano in pochi ma Nothing Phone One ha anche lo Louis On display. Devo dire che nonostante non sia particolarmente personalizzabile, anzi non è per nulla personalizzabile ma confidiamo in un aggiornamento futuro, sul Nothing Phone One possiamo utilizzare lo Louis On ed avere quindi sempre a schermo data, previsioni meteo, icone delle notifiche e ora è piacevole, è utile ed è una funzione che ho praticamente sempre utilizzata e ho trovato molto piacevole. Iniziamo a scendere un po' di qualità dopo aver visto un'eccellente costruzione e un ottimo display passiamo a parlare del comparto fotografico che ci ricorda che Nothing Phone One di fatto è uno smartphone di fascia media. Troviamo due ottiche, ho apprezzato la scelta di Nothing di non montare tre o quattro ottiche con due ottiche terribili e di pessima qualità, meglio montarne due buone ed evitare di buttare i soldi per ottiche inutili che fanno solo numero di fatto. C'è un'ottica principale Sony da 50 megapixel stabilizzata otticamente e un'ottica grandangolare da 50 megapixel di Samsung con apertura focale da 150 gradi. Sul lato frontale invece in un piccolo foro nel lato superiore sinistro dello smartphone troviamo una fotocamera da 16 megapixel che permette di scattare buoni selfie. La fotocamera la conoscevo già bene, è la stessa che abbiamo visto su Realme GT2 Pro e anche su Realme GT Neo 3 che ho recensito negli ultimi mesi quindi era un sensore che conoscevo. Riusciamo con questa fotocamera a fare delle foto di buona qualità, con un buon livello di dettaglio, con un ottimo bilanciamento dei colori e con poco rumore. Gli scatti di giorno sono davvero buoni ed entusiasmati, mi sono piaciuti. Anche quelli notturni ovviamente fatti con la modalità notte e la mano ferma sono più che sufficienti. Nel complesso il comparto fotografico è quindi buono ma non è sicuramente paragonabile né a quello di iPhone né a quello dei top di gamma. Per quanto riguarda i video, 4K a 30 fps. È strano il fatto che non arrivi a 60 fps, anche qui immagino che arriverà un aggiornamento. Non sono stabilizzati benissimo, c'è sempre un po' di movimento e la qualità però insomma generalmente è sufficiente. Software fotografico in puro, stile iPhone, fotocamera semplificata quindi basata più sul punto di scatta che sulle funzionalità che poi comunque sono assolutamente disponibili. Il software comunque è ben realizzato, semplice e non gli manca di fatto praticamente niente. L'esperienza d'uso in questo mese con Nothing Phone One comunque è stata assolutamente soddisfacente. Lo Snapdragon 778G+, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, ci consente di avere delle prestazioni davvero impeccabili praticamente in ogni ambito di utilizzo. Io l'ho utilizzato come smartphone principale con la mia SIM per 4 settimane ormai nella mia quotidianità, quindi per il lavoro, per i messaggi, per il tempo libero, per il cazzeggio, per le mail, per le foto. Devo dire che l'esperienza è sempre gratificante, fluida. L'unico punto in cui mi sarei aspettato qualcosa in più è il software che è basato su Android 12, puramente stock, senza nessun bloatware, senza applicazioni doppie, ma c'è quasi troppo poco. Ogni tanto, a parte qualche widget in affin con i font punteggiati e qualche personalizzazione grafica, l'interfaccia Glyph, sembra quasi che manchi qualcosa, sembra quasi che sia vuoto il sistema, che manchi qualche funzionalità, si riesce ad integrare con le applicazioni disponibili sui Play Store, ma qualche funzione in più, qualche widget in più, qualche sfondo in più, avrebbe sicuramente fatto piacere, anche se non escludo che poi si sia sempre la possibilità di riceverlo in futuro, però è giusto valutare uno smartphone per come viene immesso sul mercato. L'esperienza comunque nell'utilizzo quotidiano è buona, la ricezione è ottima, il supporto al Dual SIM 5G è praticamente impeccabile, non ho mai avuto problemi né di linea né in chiamata né in navigazione, la qualità delle chiamate è buona sia in capsula sia in viva voce, grazie al doppio speaker stereo che ci consente di avere un audio di buona qualità. Il servizio clienti, Wind3, top quality network. E di fatto nel complesso non gli manca davvero nulla, è buono anche il sensore per lo sblocco tramite impronte digitali, è posto un po' in basso ma funziona bene, è veloce e dopo qualche giorno ci si abitua anche alla posizione. Ultimo punto dell'esperienza d'uso che avevo dimenticato di nominare è la vibrazione, c'è un buon sistema di vibrazione, non è mai zanzaroso, è abbastanza potente, l'ho trovato forse addirittura troppo corposo in fase di digitazione dei messaggi, però nel complesso ha un sistema di vibrazione solido, tosto, che ci trasmette anche un senso di solidità e di cura in fase di progettazione. Infine CarPlay e Nothing hanno promesso 3 anni di major update e 4 anni di patch di sicurezza che però saranno rilasciate ogni 2 mesi. Nel complesso la quantità di aggiornamenti è davvero eccellente, è largamente superiore alla gran parte dei concorrenti Android. della fuori, quindi brava Nothing. Ma parliamo un po' di batteria che è davvero buona, c'è una batteria da 4500 mAh che grazie all'hardware, non particolarmente esoso in termini energetici, ci regala un'ottima autonomia. In questo mese di utilizzo sono sempre riuscito ad andare oltre alle 6 ore di schermo e ad arrivare alla fine delle mie giornate stress con un 20-30% di batteria residua. Nelle giornate normali comunque sono arrivato a fine giornata con un 40% di batteria, devo dire che secondo me sono dei valori ottimi. Non è la pretesa da uno smartphone di fascia media, ma neanche da un top di gamma, di arrivare a due giorni di utilizzo. L'autonomia è più che buona, la ricarica non è eccellente, c'è una ricarica 33 Watt, che ci permette di ricaricare completamente il dispositivo in poco più di un'ora. Non è una cosa che fa urlare al miracolo, non sono i tempi record dei Realme, però onestamente nel tempo non ho mai sentito la necessità di effettuare una ricarica in meno di un'ora negli smartphone che ho avuto, provato e acquistato. C'è però il supporto alla ricarica wireless a 15 Watt e potete anche utilizzare la ricarica inversa per ricaricare accessori come ad esempio le Nothing Air One. Prima di concludere parliamo un attimo di prezzo, ci sono tre tagli di memoria, 8128, 8256, 12256. Personalmente ho ricevuto da Nothing l'8256 che credo sia la più bilanciata e quella da acquistare. Gli 8 GB di RAM sono più che sufficienti e i 256 GB di memoria per me che faccio tante foto e tanti video sono assolutamente indispensabili. Prezzi sono i 499, 529, 579. Secondo me il prezzo è giusto, la qualità realizzativa, gli studi ingegneristici e di design dietro al prodotto ci sono e la qualità si sente, quindi secondo me il prezzo è assolutamente corretto. Concludiamo che ho fatto un pippone infinito su questo smartphone, spero che l'analisi completa è un po' prolissa, vi sia piaciuta ma che vi abbia aiutato a capire meglio questo dispositivo. Arrivando alle conclusioni, devo dire che Nothing Phone One nei primi giorni non mi aveva convinto, poi ci siamo capiti, ci siamo conosciuti e devo dire che dopo un mese di utilizzo sono complessivamente molto soddisfatto dello smartphone. La qualità costruttiva è eccellente, il display mi è piaciuto, la batteria mi permette di arrivare in giornate stress a fine giornata senza problemi, la fotocamera scatta benone, per chi non ha le pretese di uno smartphone top di gamma è sicuramente più che sufficiente, forse mi sarei aspettato qualcosa in più al lato software, però devo dire che per essere il primo smartphone di una nuova azienda l'inizio è davvero ottimo. Passando al test, lo consigliaresti a un amico? Devo dire sì, ma se sa cosa va ad acquistare, non deve essere un appassionato di tecnologia, deve capire cos'è Android Stock e deve soprattutto rendersi conto che Nothing Phone One non è un'alternativa ad iPhone, anche se è stato commercializzato e mercanteggiato in questa maniera. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi chiedo un paio di cortesie, un bel mi piace qui sotto e l'iscrizione al nostro canale. Vi garantisco che per voi l'iscrizione e il mi piace sono dei piccoli gesti, ma per noi di Out of Beat degli enormi riconoscimenti. Da Vittorio Tiso per Out of Beat appunto è tutto, grazie e alla prossima.